Mi sento davvero soddisfatto, orgoglioso di quello che ho fatto. Arrivo qui con molta autostima, anche prima ce l'avevo, ma è ovvio che quando vinci determinati trofei ti sale ancora di più la voglia di voler fare bene anche con la maglia azzurra. Sento tanta responsabilità su questo che stiamo facendo, un percorso davvero importante, col fatto del rinvio dell'Europeo sicuramente questo può aiutarci, dobbiamo vederlo come un fatto positivo perché abbiamo ancora un anno intero per poter arrivare all'Europeo con ancora più voglia e fame. Questa è la nostra nazionale, la nazionale del popolo, il popolo si aspetta di vedere i stessi giocatori che vede durante l'arco della stagione, del campionato. È ovvio che ci sono delle difficoltà e così come è ovvio che ci sono delle responsabilità quando indossi questa maglia. Il fatto che vinci la Scarpa Tordi deve dare solo una cosa in più, non deve mettere nessun peso sulle spalle. Io penso che tutti si debbano sentire titolari di questa nazionale. Come abbiamo visto il mister ha dato occasione a tutti di poter dare il meglio di sé in campo. Io ho giocato tante partite, ho fatto non tantissimi gol ma sono soddisfatto. Dobbiamo arrivare all'Europeo consapevoli di essere 23 titolari e di poter dare una mano per questa squadra perché dopo un campionato così lungo e difficile sicuramente arriveremo un po' a corto di fiato e di energie e quindi stando insieme e uniti possiamo fare qualcosa di importante. Con la Bosnia credo dobbiamo fare una partita intelligente perché le condizioni fisiche sono quelle che sono. Tanti giocatori sono arrivati direttamente dalle vacanze, altri da carichi di lavoro e ritiro, quindi sarà molto complicato. Poi loro hanno già iniziato il campionato, molti giocatori, quindi sarà difficile. Avremo bisogno dell'aiuto di tutti. È ovvio che ci teniamo particolarmente a esordire il National League con una vittoria e quindi la stiamo preparando bene.